Nel corso del Consiglio Provinciale della mattinata di mercoledì 18 ottobre, è avvenuta la surroga del consigliere della lista di maggioranza identità e territorio Monia Anna Mazza, decaduta. In quanto dimissionaria dal Comune di Arona, dalla sua carica e l'ingresso del consigliere Lido Beltrame, sindaco di Recetto, primo degli esclusi nelle elezioni del dicembre 2021. Monia Mazza ha ringraziato i colleghi consiglieri e il... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.